Meno due al secondo derby consecutivo per il Catania di Lucarelli. Dopo il Siracusa, ecco la Leonzio in rivo al Massimino sabato sera, quasi una stracittadina, visto che da qualche tempo lo stadio catanese è diventata provvisoriamente la casa del club lentinese. Il Catania è nel miglior momento possibile, striscia di vittoria e salita a sei, solo due gol presi fin qui, imbattibilità del portiere e morale alto. La condizione della squadra cresce, Lucarelli può contare su tutto l'organico, sapendo che chi viene chiamato in causa dà il suo contributo. Nel pomeriggio seduta d'allenamento, in cui il tecnico toscano proverà certamente la formazione di sabato sera. Recuperato Biagianti, che ieri ha partecipato alla seduta pomeridiana, Mazzarani dopo il secondo gol stagionale reclama una maglia da titolare, mentre davanti potrebbe rivedersi Curiale. In casa Leonzio si cerca una svolta. Le polemiche arbitrali di sabato scorso, con l'episodio del rigore, hanno lasciato qualche strascico. Il presidente Leonardi ha chiesto maggiore tutela, ricordando gli episodi negativi subiti in questo inizio di campionato. Pochi sei punti raccolti si inquise, pur con due gare in meno. Diversi gli ex tra campo e società, su tutti quel pino rigoli sulla panchina etnea nella prima parte della scorsa stagione. Il test in famiglia contro la Berretti ha visto sei reti da parte dei bianconeri, doppietta di Arcidiacono, De Felice e Ferreira. Domani alle 14.30, conferenza stampa del DS Mignemi.